Musica Allora, ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo Siamo belli soli soletti, piglia, piglia tutto, piglia tutto Che qui non ci ha atterrato nessuno Sendo una cassa Sta di là Forse qualcuno è atterrato, il pozzo, abbiamo scoperto una cosa nuova Ma forse qualcuno ci ha atterrato qua raga Perché sento strani rumori e la cosa non mi piace per nulla Ok, abbiamo sistemato le armi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta Continuiamo a cercare, continuiamo a cercare raga Sento una cassa, sento una cassa Eccola qua, questa bellissima cassa Dai, dammi qualcosa di interessante Un altro mini kit, una pistoletta che non mi serve a nulla Andiamo di qua, andiamo di qua Casse per noi, niente Non ci stanno casse per noi, però va bene Intanto stiamo recuperando materiali Stiamo recuperando un fucile a pompa o me lo prendo, sinceramente Allora Stiamo continuando a cercare raga Mi sto spulciando tutta questa zona Cos'è questo? Potenziamento No, non mi serve un potenziamento Qui ci sono altre armi Queste munizioni le pigliamo Qui c'è dell'acqua che non mi piace per niente Il potenziamento lo lasciamo a perdere Saliamo Allora, io non sono molto fiducioso a prendere subito l'elicottero raga Vorrei continuare a cercare qualche altra situazione Qua sopra c'è niente No, se non sbaglio Perché di qua è da dove poi passiamo noi Sì Questo l'abbiamo già visto Questo fucile verde? Perché non l'ho preso? Ciappalo? Ah, perché sono pieno Ehm... No, vabbè Mi tengo questa mitaglietta No! Sono scemo Sono caduto in acqua Stiamo calmi Stiamo calmi Apri, apri Andiamo di qua Vediamo cosa c'è qua dentro Minio Qualcosa di indistruttibile Non sapevo C'è posto la cosa indistruttibile Oh, siamo arrivati in 50 Una volta dato che non facciamo nulla Signori miei Riusciamo a arrivare A conquistare qualcosa di nuovo Allora, io voglio prendere l'elicottero Mi fate prendere l'elicottero? Dobbiamo tornare là dove c'è l'elicottero Signori miei Dagli una bellissima facciata lì Perfetto Riesce a salire di qui No, non è ancora bravo A salire le scale Come saliamo su? Dalla scaletta laterale Bella questo Riesce a aprire questa Salve, buongiorno Si sta per chiudere la safe Questa cosa non va bene Andiamo a recuperare l'elicottero Signori miei Andiamo a recuperare l'elicottero Aia No, ma io poi sono scemo Io sono scemo Saliamo sull'elicottero raga Dobbiamo riuscire a salire sull'elicottero Eh, no Una cassa Signori miei Bella così Che abbiamo trovato? Un ombrello? Non ho trovato nulla di interessante Prende l'ombrello Non so cosa serva Signori miei Non lo prendo Passare sotto le scale Porta sfortuna Ma a noi non ci interessa Saliamo sopra E prendiamo l'elicottero Signori miei Oh, una cassa Una cassa per noi Dai, 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 dai Prendi quella cassa Riesce a darmi qualcosa interessante Questo forse è più bello di questo Può essere? No, aspettate Ho buttato i cildini No, 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 no No, no Lo cildino me lo devo fare Ok Quanti ne ho? Ok Fammi uno, due Ok Ehm No, va bene Io ti rimane così Saliamo sull'elicottero Come se Vola Bello Come Come si pilota questa cosa? Esci Cambia Acceleratore Muovi giù Muovi su E come si spara? No No, 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 no Questa non ci serve Ora C'è un modo per sparare In questo cazzo Di elicottero? Come 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 si spara? Non posso sparare io Dall'elicottero Ma sta di davvero? Ehm Sono un pilota nato Signori miei Muovi giù Muovi giù Ok Ahah E come gira sto coso? Riesce a girare zio? O puoi camminare solamente In maniera ubriaca Modalità ubriaca Va bene Bello 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 A terra zio Atterriamo qui Tanto siamo in safe A terra E qui zio Dai che ce la fai Dai che ce la fai Raga Avevo preso l'elicottero Riesce a atterrare qua? Qui 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 Mi sembra un buon punto per atterrare Riesce a atterrare qui Un po' più avanti Un po' più avanti Ok Atterra Ma Raga ma siamo dei mostri Siamo dei piloti nati Allora Recupera questo Spacca un poco tutto Siamo dei piloti nati Signori miei Stiamo in 29 Stiamo in safe Non è brutta come cosa Qui c'è niente No c'è una porticina Buongiorno Munizioni per noi Rompi qua Siamo in 28 Raga Partita della vita Partita della vita Signori miei Una cassa Ma qui non c'è mai Ma siamo da soli in questa partita Raga Non ci sta nessuno in questa partita Cos'è quello? Uh Quello me lo prendo Quello me lo prendo volentieri Scambialo È verde È verde In teoria dovrebbe essere più buono No? Oh Ricordiamoci dove abbiamo parcheggiato L'elicottero Che abbiamo il tempo Abbiamo messo il bigliettino Di 5 minuti Sento una cassa Ma non so dove sia Forse è qua sotto Uh Sì è qua sotto Ma non c'è venuto nessuno qui? Bello Scudo gratis per noi Via via Ciappa 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 Amico mio Bello così Abbiamo la cassa Fermi tutti Che questo è ancora meglio Di questo Ciappalo subito Poi abbiamo delle altre bende Che non mi servono E un altro fucile blu E un altro Questo qua Io volevo Eh Voglio il contenitore Oh Perfetto Bella così Ciao l'orsacchiotto Mamma mia che cosa brutta L'orsacchiotto messo qua dentro È una cosa bruttissima Allora Le armi mi sembrano buone Signori miei Le armi mi sembrano buone Eh Uh Là c'è l'altra protezione Ma bene Ma perché non c'è Terremo prima qui Raga Perché non c'è Uuuuh Questo è bellissimo Ciappalo Dio Ok Chi ci ucciderà Signori miei Troverà tantissimo Tante armi buone Secondo me Chi ci ammazza Troverà tante armi buone Allora la safe è molto lontana Da quanto vedo Dal pallino bianco là sotto La safe è molto lontana Eh Io l'elicottero dove l'ho parcheggiato Non ricordo dove ho parcheggiato l'elicottero Stiamo rimasti Non so quanti Oh l'elicottero è là Dobbiamo raggiungere l'elicottero Mi piace il discorso dell'elicottero Mi piace Mi piace Mi gusta Mi gusta Dai 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 Dobbiamo andare l'elicottero Dobbiamo andare l'elicottero Elicottero In modo tale che andiamo in safe Queste munizioni me le ciappo Magari mi tornano utili Ok Dobbiamo andare in safe Allora se non sbaglio Questo è il turbo No Qual è il turbo No Ok Abbiamo scoperto qual è il turbo Non so come Come si spari Praticamente Non so come si spari Però va bene Stiamo raggiungendo la safe Ragazzi Stiamo raggiungendo la safe Stiamo raggiungendo la safe Giusto Girare un po' più di là Ok Siamo in zona safe Signori miei Stiamo in 23 Non mi sembra per nulla male Come cosa Iniziamo a scendere Iniziamo a scendere Atterriamo l'acqua E l'accampamento Atterriamo l'acquell'accampamento Che secondo me Ci possono aiutare Ci sono dei pellegrini Qua in accampamento Atterriamo qui nell'accampamento Dai Non me ne sto cavando male Con l'elicottero Però dai Sono grande Non l'avevo mai preso L'elicottero Bello Riusciamo a non far danni Riusciamo a non far danni A terra A terra A terra Siamo dei piloti nati Comunque raga Siamo dei piloti nati Camion di street food Ok Ora sento degli spari Sento degli spari Non ci sto a morire Ora così subito Raga Senza aver fatto Nemmeno una kill Oddio Arrivassimo a essere In due Alla fine della partita Sarebbe epico Sarebbe epico Siamo anche dentro La seconda safe Bello Dai 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 che ti ciappo Dai che ti ciappo Dai che ti ciappo No questo è da troppo lontano Però con questo Ti ciappo meglio No No E che paranoia Redammi questo Cioè proprio Due Due ebeti Due Allora se muoio contro questo Raga una kill L'abbiamo fatta Una kill L'abbiamo fatta Bello così Livello 103 Ai 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 Se questo cosa Si leva Magari Noi riusciamo A fare tante cose Belle Tipo uno Shieldino Ok Un altro Me lo posso Fa No perché Non ne ho più Va bene Stiamo calmi Non abbiamo Armi da lontano Ok Un tizio si era buttato Là dentro Ma non so dove si è finito Prendi lo shieldino E fattelo No l'ho tirato Ma sono un pirla No 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 Zio 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 Proprio due ebbeti Due ebbeti Raga Due ebbeti Do stai zi Eh dai Due kill Bella così Raga La partita della vita La partita della vita Signori miei C'è qualcun altro Che vuole essere Shottato male Signori Allora Stiamo un attimino calmi Riesci a farti uno shieldino Senza tirarlo A destra e a sinistra Grazie Ok Quanto meno Siamo al 50% Uuu Fermi tutti Aia Aia Che fai Ti nascondi ora Prima mi tiri Mi tiri la cosa E poi ti nascondi Zio Bu 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 Uh 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 Che cosa brutta Che pezzo di fango Non puoi giocare con lo spara Bello così raga Tre kill Tre kill raga Bellissimo Bellissimo E questo c'era tantissima roba Io non so che cosa prende E cosa lasciare Raga Io A questo punto Io sono ignorante Signori miei Forse poi mi conviene Prendere questo Questo cos'è Lancia Aia 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 Bello Raga 4 kill 4 kill è record Raga 4 kill è record Aia Chi è No È dalle spalle Dove Uh uh Ok T'ho visto T'ho visto Se l'ammazzato Se l'ammazzato Raga Se l'ho ammazzato Fantastico 5 kill raga 5 kill Non avevo mai fatto Non avevo mai fatto Tanto danno in vita mia Non avevo mai fatto Tanto danno in vita mia Dove sta quest'altro Qualcuno mi ha sparato Noi siamo praticamente morti Raga Noi siamo praticamente morti Aia Aia T'ho visto Ti ho visto Ti ho visto Zio Ti ho visto Ti ho visto Se io sapessi come si mette il No No C'è qualcuno molto più vicino C'è qualcuno molto più vicino No Fantastico Fantastico Questa è l'arma della vita raga 6 kill 6 kill Ci siamo rimasti in 7 Fantastico Allora fermi tutti A me serve un attimo Una zona d'accampamento Fermi tutti 6 kill raga 6 kill 6 kill Fantastico Fantastico raga Fantastico Dobbiamo un attimo A recuperare un po' di cose Anche se è difficilissimo Riusciamo A solo a vivere Siamo in 6 raga Siamo rimasti in 6 Siamo rimasti in 6 Calma a farmi Calma a tutti 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 Quello sta ancora là sotto No No ma è bellissimo Allora Piliamo tutte ste munizioni Anche se forse Non ci serviranno tutte Però tu pigiale Allora Abbiamo andato verso la safe La safe è davanti a noi Raga Partita epica Partita epica Questo che cazzo è Pesce piccolo Che cavolo è Ai 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 No 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 Zio No 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 Non mi puoi uccidere la testa Zio Non mi puoi uccidere la testa Zio Zio non mi puoi uccidere la testa Zio Non mi puoi uccidere la testa Zio Non mi puoi uccidere la testa Zio No, 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 questo non l'accetto No, non l'accetto, raga Non l'accetto, non l'accetto, no, dai Sette kill avevamo fatto, raga, sette kill, fantastico, fantastico Niente ragazzoli, io... Video epico, video epico, io vi lascio qui al... Vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti Datemi dei suggerimenti Mannaggia, ho trovato un'arma bellissima, raga E stavamo, eravamo arresti in cinque, eravamo arresti in cinque tantissima roba Detto questo, ragazzo, vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti Noi ci vediamo domani alle due e mezza per un prossimo video sempre qui sul canale Bella raga, ciao